Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Ernesto J e vi state domandando che cosa sono questi pacchi Mi hanno mandato dei pacchi, non so chi, ma in questo sta scritto Ernesto J e Stive J anche se non c'è Se guardi questo video Stive J mi dispiace Allora per prima cosa prendiamo il taglierino e vediamo che cosa ci ha mandato Cioè non scriverò niente, forse Allora che cosa ci ha mandato, io con il taglierino faccio schifo, ma è uguale Allora, ci ha mandato Un minions, lo aggiungerò qua Poi, allora ci ha mandato giochi per la PS Vita Aspettate Ci sono pure Allora, Little Big Planet, questo qua Questo qua Allora, Lego Marvel Super Hero, questo qua E Call of Duty Black Ops Poi Amiibo di Little Mac, questo qua Questo qua Questo qua, e lui è Little Mac Aggiungerò qua Poi, questo pacco se ne può andare Abbiamo il secondo pacco che non si deve neanche tagliare con il taglierino Stava cadendo Dai che figata Ma che figata stratosferica Allora, poi li metto qua Allora, ecco E' bianco questo Ciao Poi abbiamo un secondo pacco bello pesante Prendiamo il taglierino Eccolo qua Eccolo qua Aspetta un momento A punta normale E Ecco qua Cioè ma gli cartano L'FBI Ma chi sono a mandarmeli l'FBI Dai Che cazzo ne so io Allora Ecco perché era pesante Aspetta Questo non l'avrò mandato da Amongham Perché ci sta Minecraft Sidelpack Eccolo qua Poi No Ce l'ha mandato qualcuno Ah sì C'è un centro in cui ordine online Poi due libri della schiappa E abbiamo pure No Che figata Dai ma sul serio Ma dai ma sul serio Ma sul serio Cioè ma stiamo scherzando Allora Terzo pacco Ho finito E c'è l'ultimo Ehi Chi me l'ha mandato Va Io potrei sempre vedere Chi me l'ha mandato Allora Un pupazzetto di Spongebob Questo qua Le metto qua Tre pupazzi Mi hanno mandato Poi Un telecomando wifi Mi finto Perché prima Perché prima Odora pure C'è Da scassato All'aggiustato Bo Qua subito Allora Amiibo Amiibo di Donkey Kong Bello pesante pesante Non ce la faccio più Amiibo di Link in descrizione Perché Perché di qua Anche in descrizione Peach Peach Che bella vita Si fa Allora Lo metto qua Perché non voglio creare troppo caos È morta Peach Lip Lip Peach Ecco Questa gamma Cazzo Devo fare Poi Ultima cosa Il bicchiere di Cavallino Che delusione Lo vedete quello da sopra Cavallino matto E' lui L'aggiungo al secondo E' anche un pacchetto Di crackers Ma che cazzo Vabbè ragazzi Il nostro Unboxing Può essere finito Se il video vi è piaciuto Commentate qua sotto Iscrivetevi al canale E non mi sono sposato Bella ragazzi